Retata sui marciapiedi a luci rosse nell'epoca del coprifuoco anti-covid. A Vicenza, da Corso San Felice e Fortunato, a Viale Verona fino a Viale San Lazzaro e lungo la Statale 11, le pattuglie della polizia locale identificano sei prostitute che vengono multate per il mancato uso della mascherina e per non aver rispettato il divieto di circolazione dopo le 10 di sera. Anche due uomini sono stati sanzionati perché si trovavano in giro su un'auto senza adeguata motivazione e per quanto riguarda il guidatore per circolazione con patente sospesa. Un'operazione importante che ci ha permesso di attenzionare la zona e di effettuare controlli più forti in misura anti-covid.